Quando la canzone che avete appena ascoltato non ho minuto la parola omentata, lo faccio veramente con un grandissimo rispetto, è qualcosa che non etichetto come atteggiamento come se fosse un titolo da giornale, ho un grandissimo rispetto per questa cultura, per quello che ha dovuto affrontare e omentata è qualcosa di importante, nonostante non mi sono mai finito così, però credo che sia una tanta faccia di usare la parte vostra sentire sempre quello che è riguardo al continente, che tutta chi parola è davvero sentito dire e semplicemente che fa bene o libero o condannare, so che ogni giorno voi combattete contro qualcosa che qui possiamo chiamare tali un nome, io dico a Roma, non ha quel nome che ha un decennetto e l'espressione indesima, ho molto esperto. Grazie. 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 ástico. Grazie. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione